Ciao ragazzi sono benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, oggi ragazzi live reaction di Juventus Bologna dall'Allianz Stadium e con una nuova maglia non lo so se mi piace o meno, ho detto la compro, ma la compro di chi? Di un giocatore che sta per rientrare, presto rientrerà, credo in lui e qui ne ho preso la maglia, di Federico Chiesa, che speriamo che torni come si deve prima di partire il mio video ragazzi, mi raccomando lasciate un like di supporto e un'iscrizione al canale se ancora non avete fatto mi raccomando iscrivetevi, dovete iscrivervi, c'è molta gente di voi che guarda i video ma non è iscritta, quindi non va bene questa cosa, iscrivetevi tutto questo ragazzi vi ricordo di nuovo che se volete acquistare tantissimi titoli di gioco su una piattaforma che è la piattaforma che si sta sviluppando di qui sul web per quanto riguarda le console, trovate il sito di Eneba qua sotto nella descrizione è una piattaforma nuova dove ci sono PSN card, giochi per la Playstation, giochi per l'Xbox One, computer, c'è davvero di tutto a prezzi davvero bassissimi, quindi mi raccomando andate nel link della descrizione e approfittate di queste offerte che ci sono sul sito detto questo ragazzi non perdiamoci l'ulteriore di chiacchiere e andiamo ad entrare all'Allianzegno, primo Bologna, che ho paura e quindi ragazzi con il DJ set di Salmo che è già in corso facciamo il nostro ingresso all'Allianzegno per il vento di Bologna vanno col Adamsegno sera da macerante chiara Ehi, buoni caglioni! Ragazzi, è entrata la Juventus di campo per riscaldamento. Vediamo di riscaldarci bene, visto che ultimamente non ci siamo né riscaldati né allenati chissà quanto bene. Vediamo di iniziare di nuovo il campionato dopo la sosta con un'altra testa, con un altro picchio, per favore ragazzi, dai, dai! Ciao a tutti, benvenuti e pochi minuti al Fisca Edilizia. Vediamo, come sempre, insieme i protagonisti del match. Juventus! Ehi! Ci sono gli ammessi di chiedere! Ehi, tre, tre! Numero uno, oi checker! Check me! Numero tre, lei sorda! Breve! Numero sei, da Silva! Piavino! Numero nove, Dujana! Piavi! Numero quattordici, orenca! Di! Eh ragazzi, riportiamo da qua, coloriamo nel gioco e non ci sono tutti. Di oggi, l'aiuto il piccolo, prendiamo, mettiamo su qualche di voglia, un po' di migliore, in piedi, un piccolo che vogliamo vedere in campo alla parte nostra. Non tutte le altre stronzate, tutti i minuti, come più di un po' 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 di un po'. Sì, via negli eroi, abbiamo il cuore a strisce, portaci dove vuoi, verso le tue conquiste. Dove tu arriverai, sarà la storia di tutti noi, solo chi corre fuori, vale di te quello che sei. Dove, storia di un grande amore, un bianco che abbraccia il nero, un coro che si alza davvero, solo per te. E' la riune, storia di quel che sarò, tirate fuori i coglioni, fuori i coglioni, fuori i coglioni. Forza ragazzi, forza ragazzi! Dai ragazzi, iniziate la partita, dai dai! Dai Alessandro! Dai Kostic, smettila! Dai Luca! Cazzo che cazzato è! Allarga, allarga! Dai Kostic! Non contro l'avversario Kostic! Riesce di metterne un mezzo decente di in su? Oh no! Oh no! Da solo in aria, Weston! Da solo in aria davanti al portiere, gli hai tirato una ciopecca di testa! Porca pizzi! Dai con il troppiede, come la donna! C'è Kostic, là! Vira! Porca troia, porca troia che ha un ruolo di rivelazione, ha un ruolo di rivelazione. Cazzo, dai cazzo, attacchiamo un po' con un po' di voglia e un po' di grinta cazzo, attacchiamo in verticale, aggrediamo, dai buono così. Ragazzi è finito il primo tempo, 1-0 per la lunga, mamma mia come giochiamo male ragazzi, troppogliamo davvero poco. Ragazzi è inzato il secondo tempo, speriamo in bene, la vediamo di chiudere, la va senza seppure più la lunga, almeno una volta. Va bene, va bene, va bene, il primo ascolto è il secondo te, attacchiamo e chiudiamo, attacchiamo e chiudiamo. Ehi, ecco lo sticcio, corri per favore. C'è nessuno scelto il po' di giro. Metti un bel trasto e Kenny. Bravami! 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 No, due gol, due gol su quattro piedi, questi due contro piedi faccio bene, con una palla in verticale, l'esterno che corre, la sovrapposizione di quello che arrivano è ben grosso, mi accompagna l'azione e va a finalizzare, cazzo, cazzo, così si gioca, in avanti contro queste squadrette, cazzo, ti lascia uno spazio, bisogna attaccare, attaccare, attaccare e segnare, dai cazzo, 2-0, un po' di sospiro, un po' di tranquillità, forse, attenzione, siamo a 60, non c'è ancora tempo. Non so se è regolare. Non so se è regolare perché non lo può, scotta via, mamma mia. E il gol è buono, siamo iutiti qui, siamo iutiti qui, per vedere il segnale Bibi. Buzella! Se l'hai mangiato col pallonetto, devi rimettere da tempo, cazzo, tu, se vuoi vettere. Nooo, non c'entra la porta con il 4-0, era bene, era carino. Nooo, non c'entra la porta con il 4-0. Nooo, non c'entra la porta con il 4-0. Non c'entra la porta con il 4-0.